Iniziare l'anno alla grande? Oh yes! Con i top low cost 2023! Ti lascio subito il video! Ciao sono Nives, ben ritrovati sul mio canale! Sono letteralmente finite le feste natalizie, non so cosa ne pensate, sono volate! Cosa avete fatto per Capodanno? Io ho approfittato e sono stata un paio di giorni sul Garda in una spa favolosa! A me piace moltissimo rilassarmi e soprattutto rigenerarmi, quindi massaggi, idromassaggio, sauna, di tutto e di più! Oggi primo video dell'anno e non si poteva partire alla grande con i topissimi low cost del 2023! La postazione invasa da tanti prodotti! Quest'anno ho messo tutto insieme, quindi ci sarà qualcosa di Amazon insieme a Profumerie Eco! Sarò esaustiva in descrizione e vi scriverò tutto come sempre! Setting spray! Lui non poteva non essere nei miei top 2023! Una formula spettacolare! L'Oyaluronic Fixing Spray 12 ore idro di Catrice! Scopertona top dell'estate di Catrice! Formula pazzesca, idratante, aiuta la nostra pelle a mantenere l'idratazione ma non solo, ti regala anche un aspetto radioso! È il secondo che termino, comodo il dispenser per portare sempre con noi in borsetta! L'utilizzo sempre, estate, inverno, sempre perché comunque la nostra pelle ha bisogno di idratazione, gli sbalzi di temperatura, il caldo dei termosifoni, il freddo all'esterno... purtroppo la nostra pelle paga le conseguenze, quindi ricordatevi sempre di portare con voi un setting spray che aiuta l'idratazione della pelle! Di primer ce ne sono due e sono di Catrice! Adoro questo brand perché veramente sforna prodotti eccezionali a un piccolo prezzo. One Step è un primer perfezionatore! Questa è la consistenza che ti regala una luminosità ma non solo! Leviga la pelle e soprattutto riduce i pori! Niente male direi! Qui abbiamo il Plumping Primer al collagene texture in gel, ha un effetto riempitivo, va benissimo su base matura perché va a riempire quelle piccole rughette e a rimpolpare il nostro viso prezioso prima del makeup. Per la base 3 fondotinta e una BB cream, due top fondotinta in siero perfetti su base matura. Lo Skin Booster di Deborah Milano, una buona dose di vitamina C, regala un aspetto radioso, levigato, una buona coprenza, è spettacolare! Non so se l'avete provato! E qui abbiamo il Viralissimo a Corp F di L'Oreal, stra venduto, stramato con acido ialuronico, quindi è perfetto per l'idratazione. Se cerchi un aspetto idratante e rimpolpante e lo straconsiglio. Ultimo fondotinta è la linea ispirata agli anni 90 di Kiko. Me ne sono letteralmente innamorata. Geniale il pack con pennello incorporato. Mi piace la formula, mi piace perché perfeziona la pelle, si assorbe in 0,2 e poi ti lascia un aspetto radioso ed è quello che indosso. BB cream è del brand Benecos, tra l'altro è stato un vostro suggerimento e devo dire che mi ha sorpreso piacevolmente. Non è la solita BB cream, è un trattamento che fai alla tua pelle, altamente idratante ed è perfetta per la stagione invernale. all'interno abbiamo un mix di attivi che combattono l'invecchiamento cutaneo e poi ha una profumazione gradevole. Non sa di chimicone, uniforma molto bene, copre i rossori, è perfetta su una pelle matura. Prodotto eccezionale che fa invidia alle BB cream più blasonate. di correttori ce ne sono 4. 24 ore perfect all over concealer di Deborah Milano, texture in mousse, qui parliamo di alta coprenza per cui se hai un contorno occhi segnato ti consiglio di applicarlo con un pennello piccolo di precisione e di mettere poco prodotto. Risulta elastico perché all'interno ci sono degli attivi che aiutano come l'acido ialuronico e il tè verde per cui riusciamo a modellarlo molto bene. Quello che ho indossato mi piace perché copre senza evidenziare le rughette per cui lo trovo perfetto su un contorno occhi segnato. Restiamo sempre in casa Deborah Milano e qui abbiamo Listant Lift. Deborah Milano devo dire che sta sfornando dei bei prodottini. Non so cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti. Girando qua sotto affluisce qui il prodotto. Qui abbiamo una texture fluida, luminoso, perfetto anche per creare dei punti luce. Formula antiossidante con centella asiatica aiuta a ritrovare un contorno occhi più riposato. molto semplice da sfumare e lo trovo perfetto su un contorno occhi segnato. Multitask di Essence formato a penna quindi molto pratico. Mi piace la formulazione perché è molto leggera ed è perfetto su un contorno occhi segnato. All'interno abbiamo acido ialuronico e caffeina quindi lavorano in sinergia. È piacevole da stendere, non evidenzia le rughette. Anche questo è un prodotto spettacolare che mi ha fatto innamorare. È del brand Kiko Milano ed è un correttore in stick che solitamente non utilizzo perché li trovo molto pastosi e rischiano di evidenziare le rughette. Mi è piaciuta la formula perché all'interno c'è vitamina E, burro di karité, quindi è molto molto idratante. Ne basta pochissimo per coprire l'occhiaia e dare un aspetto riposato. Bella scopertona. Qui abbiamo anche la spugnetta che sinceramente io non utilizzo perché come ho già detto su un contorno occhi segnato è preferibile utilizzare un piccolo pennello di precisione proprio per localizzare il prodotto solo sull'occhiaia. È un top da tenere presente. Per il contouring c'è lui, sempre della linea ispirata agli anni 90 e parliamo sempre di Kiko Milano. È un duo in stick. Qui abbiamo la parte scura, la parte chiara per illuminare. Lo trovo pratico soprattutto per definire i volumi. Si sfuma in 0,2 ed è perfetto anche perché ti lascia la pelle idratata. Si fonde con la pelle, non crea spessore. Per cui perfetto anche per chi si approccia al makeup. È un prodotto indispensabile per creare i volumi. Perfetto per il quotidiano. Per me è un grande sì. Adesso è la volta dei bronzer e blush. Ce ne sono ben cinque. Sono in crema perché li trovo perfetti su base matura perché si fondono nella pelle, non creano spessore, non evidenziano le rughette. Sono perfetti. Iniziamo dai baby got scopertona di questa estate di casa Essence. Sono dei mignon fantastici, profumosi. Il blush, due blush che io utilizzo per fare il degradé. Qui c'è il bronzer. Si sfumano in 0,2. Sono qualcosa di spettacolare. Sono quelli che indosso. Ti lasciano questo zigomo succoso che a me piace e anche un po' luminoso. Non evidenziano la grana della pelle per cui sono perfetti. Se non li avete provati dategli una possibilità. Di casa Chico Milano due viralissimi hanno fatto letteralmente impazzire il web. Qui abbiamo il blush, il Velvet Touch. Perfetto come blush, ma non solo, anche come ombretto. Qui abbiamo invece lo Scalping Touch colorazione 200. È il marrone freddo, meraviglioso. Lo utilizzo non solo per definire i volumi, ma anche come base per creare uno smokey eyes facile e veloce. Trovate il video del mio smokey eyes su IG. I miei mai più senza. Assolutamente da provare. Dimenticavo un altro blush in mousse ed è di Revolution. Anche questo è uscito quest'estate. Colore che adoro. Rosa baby. Che meraviglia. Si sfuma all'istante. Ti lascia anche un velo di radiosità. Lo trovo eccezionale su una base matura. Siamo arrivati agli occhietti e ho qui tantissimi prodotti. Iniziamo dagli ombretti in mousse sempre di casa Revolution. Il color bronzo. Che meraviglia. Un dupe del famoso ombretto in crema di Charlotte Tilbury. Prossimamente farò un video e li metterò a confronto. Qui abbiamo un rosa. Li trovo perfetti su una paper matura perché aderiscono bene, si sfumano all'istante, rimangono bene aderenti e soprattutto durano tutta la giornata. Prodottini low cost eccezionali. Ombretto liquido di casa Essence. Luce pura. È quello che indosso. Aderisce perfettamente. Si asciuga e rimane lì. Non si frammenta. È molto sottile. Non evidenzia. Lo trovo perfetto su paper matura. Soprattutto per creare il natural look. Siamo arrivati alle palettes. Ce ne sono ben tre. Revolution. la Prestige. Ed ho creato questo make up. Maxi cialde. Performano benissimo. Non creano fallout. E sono veramente quell'aiuto per il look di tutti i giorni. Ma non solo. Ma anche per la sera. Sempre di Revolution abbiamo la Velvet Rose. Le tonalità dei rosa. Ma non solo. Ci sono anche i malva e dei marroncini. Perfetti per la transizione. Qui abbiamo anche un nero. Due super chicche. Assolutamente da provare. Nude Daring di Catrice. Di cui sono follemente innamorata. tonalità. Tonalità nude. Perfette. Per il nostro natural look. Che io adoro. E lo trovo armonioso. Su una base matura. Rimangono tutto il giorno. Non si sfaldano. Il prodotto low cost. Eccezionale. Direi tanta tanta roba. Le avete provate? Fatemelo sapere nei commenti. un prodottino. Un prodottino. Che ho scoperto quest'estate. E ho utilizzato tantissimo. È questa Pocket Palette. Di Kiko Milano. Tre click. E tre ombretti. Opaco. Shimmer. Puoi creare una full face. Tranquillamente. Utilizzati su occhi. Ma anche sugli zigomi. Pratica da portare sempre con noi. Soprattutto quando si viaggia. Ultimo ombretto. È liquido. E siamo sempre in casa Kiko. ed è metallizzato. È spaziale questo ombretto. Comodo per creare un trucco facile e veloce. Soprattutto alla mattina quando si è di corsa. O anche per chi si approccia al make up. È facile da sfumare. Anche con le dita. È un grande sì. Prodotti per le sopracciglia. Ne ho due. Di casa NYX. Lift Snatch. Penna sottilissima. Che va a creare l'effetto pelo. Perfetta per definire le nostre sopracciglia. NYX per le sopracciglia è imbattibile. Crea sempre dei prodotti fantastici. E io ne sono la consumatrice accanita. Sono prodotti waterproof. Quindi non colano. E definiscono perfettamente il sopracciglio. Poi c'è Zero Brow. Doppio. Da questa parte c'è lo scovolino. Pratico per pettinare. E qui invece abbiamo il nostro gel. Per definire. Dura addirittura 16 ore. Se cercate qualcosa per le sopracciglia. Questo è il top. Siamo arrivati ai mascara. Ce ne sono cinque. È stratosferico. È di Deborah Milano. È l'Instant Maxi Volume. È quello che indosso. È spettacolare. per dare volume. Ma non solo. Anche per allungare. Ma poi separa benissimo. Anche se lo scovolino lo trovo molto grande. Per chi ha ciglia cortissime come le mie. Però riesco ad utilizzarlo molto bene. Stra stra consigliato. Continuiamo con Kiko. Prodotto che è uscito quest'estate. Scovolino classico. Ed è waterproof. E in quest'estate l'ho utilizzato tantissimo. Rimane tutto il giorno. Anche se fai il bagno. Non cola. Assolutamente da provare direi. Poi poi poi. Andiamo in casa Maybelline. E qui abbiamo questo mascara imbattibile direi. Falsies Surreal. Fa delle ciglia. Effetto ciglia finte. Scovolino piccolo. Quindi perfetto per noi che abbiamo ciglia cortissime. Lo puoi stratificare. Separa molto bene. Non crea grumi. Assolutamente. Se cerchi uno sguardo intenso con ciglia stratosferiche. Questo è il top. Siamo in casa Astra. La linea Pur Beauty. Una mascara che mi ha letteralmente stupito. È al 90% con ingredienti naturali. Questa è la linea clean di Astra. Scovolino a piramide. Quindi pratico. È perfetto per dare intensità allo sguardo. Ed è perfetto anche per chi ha occhi sensibili. Tanta roba questo mascara. La formulazione è idratante. Quindi è anche un aiuto per le nostre ciglia. Assolutamente da tenere presente. Se cerchi l'effetto wow. Trille Seeker di Rimmel. È stato un prodotto viralissimo. Abbiamo uno scovolino classico. Risulta molto cremoso. Per cui è bene scaricare lo scovolino prima dell'indosso. Riesci a stratificarlo. Ed è veramente spettacolare. Ti lascia ciglia voluminose. E uno sguardo molto molto intenso. Secondo che acquisto. E ti ho detto tutto. Matite per occhi. Ce ne sono due. Kiko. È la Last Precision. A questo lato abbiamo il temperino. È una matita automatica. Quindi comoda. Ed è un color burro. Che io adoro. Ed è quella che indosso. Per dare luminosità allo sguardo. La matita color burro è quel jolly che ci aiuta nel nostro make up. E non deve mai mancare nel nostro beauty. Prossimamente farò un video dedicato. E ti farò vedere i volteplici utilizzi. Matita occhi waterproof favolosa. È del brand Sheelac. È una tonalità marrone. È facile da sfumare. Si fissa e non si muove più. Rimane tutto il giorno. E la trovo pratica anche per chi si approccia al make up. Stra stra favolosa. Dategli una possibilità. E adesso andiamo ai prodotti labbra. Astra. La linea pur beauty. Ma che bello è questo colore. Ravviva il nostro incarnato. La trovo morbida. sfumabile. E qui parliamo poi di ingredienti naturali. Perché come sappiamo la linea è la linea clean di Astra. Di casa Chicco. Ne sono pazzamente innamorata. Meravigliosa. Un balsamo colorato. È la linea kind free di Rimmel. Una linea vegan. E questo è il colore. lo adoro. Guardate che bello. Rimane anche luminoso. Ed è perfetto per chi non ama i rossetti. Perché idrata le labbra e le colora. Mi piace perché ha un'azione idratante. E la trovo perfetta per la stagione invernale. Adoro il colore. Zero appiccicoso. È piacevole sulle labbra. Per me è il top. Stra stra consigliato. Altro prodotto vegan è di Astra. Pure beauty. Colore atomico. Che valorizza l'incarnato. Ha anche una piacevole profumazione. Altamente idratante. Piacevole sulle labbra. Ha anche un inci favoloso. Per cui se cerchi qualcosa di naturale e di tendenza. Te lo straconsiglio. Siamo il rossetto rosso. Qui ho qualcosa di stratosferico. È la linea Scandalous Matte di Catrice. L'ho utilizzato a capodanno. È un rosso opaco da paura. Che meraviglia. Voglio gli applausi. Nonostante sia matt. Risulta idratante. E questo lo apprezzo. Perché tante volte i rossetti matt tendono a rinsecchire. Questo no. Ti lascia labbra morbide. È un colore che non passa inosservato. Poteva non mancare una tinta labbra? No! E qui abbiamo Superstay di Maybelline. La utilizzo quasi tutti i giorni. Adoro il color nude. Puoi mangiare, bere, ridere e rimane tutto il giorno. Prodottino viralissimo che non può mancare nei miei top 2023. L'hai provato? Fammelo sapere nei commenti. Due Lip Oil. Questo è di NYX. Stra viralissimo. Guarda che bello. Adoro la profumazione. Leggermente fruttata. Il colore è perfetto se ami le tonalità dei nude. Ti lascia questa luminosità che non mi dispiace per niente. idrata le labbra. Perfetto per la stagione invernale. Zero appiccicoso. Confortevole. Assolutamente da avere. Siamo arrivati all'ultimo prodotto. È di casa Astra. È il Juicy Lip Oil. Anche questo è favoloso. Effetto specchiato. Che io adoro. Per dare un effetto più rimpolpato alle labbra. E poi ha un'azione anche idratante. Che è perfetta per la stagione invernale. Anche questo è un prodottino che è spopolato nel web. Top top top. Finiamo con due illuminanti pazzeschi. Glow glogo di Essence. Molto discreto per creare dei punti luce che valorizzano l'incarnato. Soprattutto per dare un effetto liftato. Si sfuma facilmente. Non evidenzia la grana della pelle. È sottile. Ci aiuta a creare un effetto liftato. Niente male. Lo puoi applicare anche sugli occhi. Multitask pazzesco. Illuminante bomba per eccellenza. La scopertona di Catrice. Con l'allover glow tint. Crea dipendenza. Ve lo dico. No vabbè. È il top del top. Adesso ne ho messo tanto per farvi vedere. Ma crea veramente dei punti luce pazzeschi. Se cerchi qualcosa dall'effetto wow questo lo devi provare. Abbiamo finito la nostra carrellata dei top 2023. Tanti prodotti esplosivi direi. Prossimamente ci sarà un video con i vostri top 2023. Piccolo spoiler. Sto aspettando delle novità. Niente male. E prossimamente le vedremo insieme. Alla prossima con Nives. Besos.